Piazza d'Azeglio è per la Resistenza uno dei luoghi simbolo di Firenze. Qui si trovava l'ultima sede dell'emittente clandestina Radio Cora, dove nel giugno del 44 i nazisti fecero irruzione. Gli arrestati vennero prima torturati a Villa Triste e poi avviati ai lager in Germania. Eppure per alcuni il 25 aprile non è una data simbolo per il nostro paese. Vorrei ricordarle con le parole di Di Vittorio. Di Vittorio diceva festeggiando il 25 aprile che chi non crede nella libertà e nella democrazia è nel buio. Chi crede nella democrazia e nella libertà è nella luce. Io credo che molti oggi sono nel buio. Però visto che siamo proprio in questa piazza storica della Resistenza, vorrei ricordare un caro amico che se ne è andato e che era un pezzo della nostra storia che è Giuliano Sarti. Il primo 25 aprile senza di lui ci manca. Una chiamata alla partecipazione non come rituale ma come atto di testimonianza tanto più necessario in questo momento per il paese che fa anche l'ospice GL con una bella campagna sui social. Ci avrebbe ricordato come bisogna ricordare il 25 aprile come un fatto moderno, come un fatto d'attualità, non come un fatto di storia. Ma io penso ci siano molti motivi che dobbiamo ricordare e festeggiare il 25 aprile. Penso al fatto che qualcuno dice, compreso un futuro candidato sindaco e un ministro, che bisogna fare altro, che ormai il 25 aprile è storia passata. No, non è storia passata. Io credo sia storia moderna. Una storia che vede lo SPI impegnato in tante iniziative, dalla raccolta di firme alle assemblee pubbliche, che vedono il sindacato insieme ai giovani per rinsaldare quel filo che lega le vecchie e le giovani generazioni con lo scopo di attualizzare l'antifascismo, vissuto in un nuovo contesto sociale, valutando anche il grado di consapevolezza e conoscenza a partire dai giovani. Noi ci impegniamo tutti gli anni con i giovani su un progetto per ricordare legalità e antifascismo. Lo faremo anche quest'anno. Credo sia importante continuare la memoria, perché, come dicano i filosofi, un popolo senza memoria è un popolo destinato a sparire.